A Piglio, i carabinieri hanno arrestato per droga un 43enne di Anagni già con precedenti. L'uomo alla guida della propria autovettura, reso sì conto del posto di blocco, ha gettato dal finestrino un borsello, dandosi alla fuga. Il borsello, immediatamente recuperato dai militari, conteneva nove involucri di sostanza stupefacente del tipo di cocaina per un peso complessivo di 3,20 grammi. Qualche ora dopo, lo stesso è tornato sul posto per recuperare la droga, ma ha trovato i militari che lo stavano aspettando per arrestarlo. Un'ulteriore perquisizione addosso all'arrestato consentiva ai carabinieri prima di trovare 185 euro, frutto della vendita illecita e successivamente un'ulteriore perquisizione della sua abitazione consentiva ai militari di trovare materiale atto al confezionamento della droga. Tutto il materiale veniva sequestrato, per l'uomo scattavano gli arresti domiciliari.